Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, lavori di manutenzione dei binari tramviari tra Viale Carlo Felice e Via Emanuele Filiberto. In particolare su Viale Carlo Felice sono chiuse la corsia tramviaria e la corsia laterale direzione San Giovanni tra Via Conte Rosso e Via Emanuele Filiberto. Su Via Emanuele Filiberto invece è chiuso il tratto da Viale Carlo Felice a Via Umberto Biancamano. Sono deviate otto linee di bus, i dettagli su romamobilita.it